Ciao da Antonio di Calzature Nucca, siamo qui anche oggi per vedere le nostre offerte dei saldi che continuano sempre all'insegna delle calzature artigianali italiane fatte per farti stare bene. Sono quelle scarpe che devi arrivare a sera e dire oh devo ancora togliermele, che ti fanno provare benessere per tutto il giorno. Oggi il focus è sui tronchettini, sugli stivaletti ma un po' più raffinati, quelli di mezzo peso, quindi quelli adatti da portare anche nella stagione che ci introduce alla primavera. Quindi andiamo ora a vedere cosa ti abbiamo riservato in questa puntata. Partiamo subito con un paio di tronchetti, detti Beatles, sono quelli con gli elastici laterali. La particolarità, la raffinatezza di questi tronchetti è, vedi il fatto, che sono colorati a mano, proprio vengono passati col tampone e quindi assumono questo tono, vedi, completamente diverso uno dall'altro. Sono estremamente leggeri, di questi tronchetti abbiamo solamente 39,40 e li potrai portare a casa per soli 107 euro anziché 179. Come vedi c'è anche la versione in color antracite, in questo grigio scuro, proprio per dare anche qui l'effetto del tamponato, quindi vedi l'effetto tra più chiaro e più scuro, tra grigio e nero. Da notare l'elastico rosso che spicca, anche questi sempre 107 euro. È il momento ora di un tronchettino veramente fantastico, guarda la particolarità del modello con la doppia fibbia e l'elastico sempre, si inserisce sempre logicamente solo usando l'elastico e la particolarità, direi, anche del colore che è un colore bianco, tutto sporcato di nero, quindi assume questo tono molto neutro, grigio, sostanzialmente grigio bianco, per avere una scarpa che veramente ti distingue dal resto delle persone. Di questo modello abbiamo ancora il 36 e il 37 e il prezzo di 149 anziché 249. Ora puoi apprezzare anche la versione a polacchino più alto, tipo stile inglese, allacciato, sempre con la zip per risparmiare tempo quando lo devi mettere e il colore è sempre lo stesso, bianco. Qui in questo modello abbiamo il 37 e il 37 e mezzo 39 e costa 159 anziché 269. Come le trovi interessanti? Allora proseguiamo con le prossime e anche quelle sapranno veramente sorprenderti. E adesso il turno di questo tronchettino, anche questo detto Beatles, ha la particolarità, vedi, di essere uno un po' più alto del classico stivaletto con elastico, quindi va a prendere meglio la caviglia, due è un pellame morbidissimo, questo è pelle di canguro, quindi una pelle estremamente morbida ed elastica che contiene molto bene il piede, è un fondo cuoio con la mezza gomma, tutto, tutto tinto in capo, ovvero colorato in botte. Costa 137 euro anziché 229. Dello stesso polacchino abbiamo anche la versione in canguro nero, in pelle nera e anche questo costa 137 anziché 229. Ora è la volta di uno stivaletto molto particolare, vedi, è in cocco, quindi è in questa pelle di vitello stampata, effetto coccodrillo. Il colore è anche particolare che è umilitare, quindi è tra il verdone, sfumato scuro, sfumato nero, molto neutro e fra l'altro anche queste pelli stampate sono molto di tendenza, riescono comunque a mantenere un'ottima morbidezza, perché in genere questo tipo di pellame ne risente un po' questo tipo di aspetto. Di questo modello abbiamo ancora il 37, il 37,5 e il 41 e lo puoi trovare a 149 anziché 249. Ecco ora abbiamo lo stesso polacchino nella versione in pelle spazzolata nera, quindi assume un tono molto più raffinato, l'altro era più sportivo, questo è più fine, vedi, la cosa bella è che anche questo pellame riesce a mantenere un'ottima morbidezza. Anche questa scarpa costa 149 euro anziché 249. Oh, continua la nostra rassegna e adesso andiamo a vedere qualcosa di più grintoso e sportivo. Ecco il nostro Beatles in pitone stampato chiaramente, parte posteriore in cocco, poi l'elastico e poi appunto il pitone tra il grigio, il nero e il bianco, in particolare anche la rifinitura del tacco qua metallizzata e anche questo stivaletto molto neutro, molto diverso un po' dalla solito. Di questo abbiamo disponibili ancora il 36, il 37, il 39 e il 41 e costa solo 89 euro anziché 149. Ecco ora un modello caratterizzato da fibie, da quattro fibie, dalle borchette nere, quindi non fanno eccessivo contrasto e poi chiaramente da indossare con la cerniera. Questo modello costa ora 113 euro al posto di 189 e puoi avere il 37, il 39 oppure il 40. Aumentiamo il livello con questo tronchetto di Guglielmo Rotta molto molto raffinato dalla forma leggermente allungata. Questo stivaletto costa ora 159 euro al posto di 269 ed è disponibile il 36 oppure il 37 e mezzo. E infine chiudiamo con questo tronchetto in vitello morbidissimo color testa di moro con la zip posteriore, eccola qui, peso estremamente leggero, costa sempre 149 euro anziché 249 e di questo modello abbiamo disponibili il 36, il 37 e il 40. Bene siamo certi di averti offerto in questa rassegna degli stivaletti di veramente alta qualità, degli stivaletti che puoi indossare e che ti danno benessere per tutto il giorno. Quindi se non ci credi oppure se vuoi venire a provarli in negozio siamo qui, ti aspettiamo, te li facciamo provare, poi se ti piacciono ci stai bene te li puoi anche portare a casa con un prezzo decisamente ridotto. Ci vediamo qui a San Bonifacio in Corsovedenza numero 13. Ciao!